Va diretto! Ho un telecomando del condizionatore e non ho paura di usarlo! Eppure è spento Ciao a tutti ragazzi, sono Lorenzo e benvenuti su Roblox Porte! Ragazzi, io non volevo tornare su Roblox Porte perché è la fobia delle porte! Cioè, mi spaventano i pomelli, mi spaventano le maniglie, insomma, meglio non aprire le porte! Oggi andiamo a fare una cosa, hanno aggiunto il croce fisso che possono far svanire i mostri! Cercherò di far scomparire tutti i mostri con il croce fisso! Sarà quasi impossibile, ma lo voglio fare! Quindi cosa aspetti? Iscriviti ora al canale e attiva la campanellina ai te prossimi 3 secondi! Se no la vostra porta si staccherà la maniglia! Se no si è aprito una porta appare un mostro! Iniziamo! Ok, eccoci! Ciao Jeff! Mamma mia che sei bello Jeff! Allora, cos'è che mi vendi oggi? Quando sento il proprio fumo, margherò... Mi vendi il croce fisso? Bene, così abbiamo il croce fisso che posso utilizzare... Ma lo posso utilizzare sopra Jeff il croce fisso? No, posso provare un attimo? No, non funziona! Ciao il goblino! Ciao! È morto! No, è senza ragazzi! Senza, non mi partire con megalovania! Parlo con lui! Bob ha bisogno di mangiare qualcosa, man! Recentemente sembra come se fosse un ammasso d'ossa! Effettivamente è vero! Ma io non ti posso aiutare! Non so mica uno chef! Qua Jeff! Pensati su! Jeff lo chef! Direi che posso continuare... Posso aprire qua? Bob non ti do fastidio, vero? Ok, grandissimo! E ciao il goblino! Alla prossima! Oh no, dai! Non possiamo subito iniziare così! Ok, qual è il primo mostro che prenderà il mio croce fisso in faccia? Potrebbe essere Dupe! Potrebbe essere Hyde! Che notte era quella? Va bene, facciamo che sbagliamo porta e proviamo! Proviamo questa! No, no! Sta arrivando Rush! Eccolo! Eccolo Rush! Sìì! Primo mostro andato! Via! Giù Rush! Giù! Ah! Mannaggia! Ma parche miseria! Iniziamo un pene! Allora, vado avanti un attimo! Magari riesco a trovare un altro croce fisso! Anche se dopo quello scrisso che mi è arrivato! Pense che non lo troverò il croce fisso! Dovrò ritornare indietro! Ma dai ma io contentissimo Perché ho distrutto Rush Comunque l'ultimo mostro Che cercherò di abbattere È Figure Che è il più difficile Perché se dovresti prendere il Crocefisso Allo chef Jeff shop Jeff Significa Che per andare contro Figure Devo arrivare alla porta 100 Crocefisso Crocefisso Dammi un crocefisso Ragazzi mi sa che il crocefisso qua non lo trovo E niente Devo ritornare indietro Ah ecco il crocefisso Ovviamente è quello che non dovevo prendere Qua c'è la porta col teschio Questa qua ci dovrei andare Un giorno Non lo so scrivetemi sotto nei commenti se volete che io ci vada Ragazzi qua c'è SIC Almeno questa ve la faccio vedere Perché io contro di lui dovrei andare poi Il crocefisso contro SIC O SCRECH Non lo so Eccolo Adesso te lo faccio vedere io Corri Con il peperoncino Sai dove Corri Ho bisogno di tenari Ho bisogno di lingotti Datemi lì Che parte vado di qua di qua Vai Vai continua SIC Ok mamma mia che fortuna Primo colpo Vai continua così Continua così Intanto apro le cose Oh eh scusa Non ti arrabbiare Non volevo Alla prossima Ciao SIC Ah Mannaggia Oh C'è una probabilità Su 200 cassetti che apri Di trovare timoti Proprio dopo SIC Mi doveva capitare Ah di nuovo Oh Ma la probabilità Ma che probabilità Ha sto gioco Ok siamo arrivati a 300 Tutti a me stanno capitando Oh Rieccoci Ragazzi Mi siete mancati Ciao amico mio Ciao Allora È il momento di prendere Il croce fisso Un'altra volta Il prossimo Con chi andò Contro Screech Contro Timothy Dato che oggi Ho la fortuna Che mi appare 20.000 volte Rebobbe Ti prego Rimani sveglio Sei già morto Jeff eh Mi raccomando La prossima volta Mi prepari qualcosa Ah Vuoi che ti do Dei soldi Vabbè Tanto non mi interessa Quindi Tieni pure Ti do tutti Dei nere che vuoi Tanto a me non servono Adesso Posso andare al college Come adesso posso andare al college Ok ragazzi Ci siamo Chi sarà il prossimo Che andrà Contro il mio croce fisso Eh Chi vuole Un assaggio di divinità Ok Questo qui Questo qui Questo qui E questo Qui Yeah Mi piace un sacco Questo gioco Soprattutto se ci so giocare Quando uno si sa giocare È bello Quando uno No Ok Croce fisso alla mano Eh Prepariamoci Chi è quella tua faccia Chi potrebbe essere il prossimo Ho un croce fisso Non ho paura di utilizzarlo Eh Devo cantare Devo cantare la canzone Allora Volevo utilizzarlo Anche contro Sic Però è difficile Che riesca a beccarlo subito Becco timothy Quanto scommettete Ci provo Non ci voglio provare Oddio Porta 70 C'è qualcuno Eh Ragazzi non c'è nessuno Porta 70 No c'è Sì È il momento Sì Ho utilizzato Il prossimo Contro Diop Ma no Ma no Ma io Ma io non volevo utilizzare Contro Sic Vabbè Alla prossima Mi sa Alla prossima Perché qua Mi sa che Sta finendo male A meno che non trovo Un crocefisso Proprio ora E non c'è Il crocefisso Rieccomi Ok Allora Stavolta il crocefisso Ce l'abbiamo Almeno quello Ma ci abbiamo pure La chiave a teschio Che dite Lo utilizziamo Non lo so Dai Intanto prendiamo Il crocefisso Prendilo Grandissimo Ah Ma se lo faccio Di te Il goblino Che ti succede No Niente Su Bob No Niente Quello è già morto Credo che Il crocefisso Non gli serve un bel niente Chef Jeff Chef Jeff Senti Voglio un'insalata Di mare Non lo so Che è un polpo Però Ok Ora Chi sarà il prossimo No dai Non è possibile Che c'è come primo colpo Allora Stiamo attenti Abbiamo ancora Sick E figure Da fare Ci sarebbe anche Ambush Però È difficile Incontrarlo Io Provo a fare Quelli che posso Quindi A meno Che Non faccio Timothy 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 Beh Beh Timothy Dovrei stare attento Ad aprire i cassetti Che ci potrebbe essere No no Voglio fare un altro Voglio fare Sick se riesco Dai Ok Meno male Che qua ci sono Oh ice Posso fare ice Pronto Pronti ragazzi Che Il gioco Abbia inizio Ice Sì Sì E vai Abbiamo fatto anche Oh 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 Occhi di gatto Oh li sto facendo tutti Va bene Prossimo E là Jeff Hola Oh Sono di nuovo qui ragazzi Sì perché Ho bisogno stavolta Del vostro aiuto Ho bisogno del vostro aiuto Vi prego Devo battere quello più difficile No no scherzo Prima Sick Quindi andiamo Verso l'80 Siamo al 50 Devo resistere per 20 porte Passa Non ce la farò mai Ciao ragazzi Datemi buona fortuna Ok ma io dirò Ciao Jeff Tu sei più simpatico Jeff Ok togliamoci questo Perché dobbiamo Tenerlo da parte E arriviamo Fino alla porta 60 60 C'è Ice Ice Gente ho fatto eh Non ti guardo Ragazzi Ice è timido Non vuole essere guardato Negli occhi 65 Queste corte enormi Ok 65 Ci siamo quasi Timothy Lo potevo usare su Timothy Però non mi interessa Ormai è diventato mio amico Il ragnetto Cerca sempre di farmi prendere Gli spaventi E io non mi spavento più Mi dispiace Timothy Mi dispiace Ok 71 72 Ancora Rush Forse non è Rush È sick Ok ci siamo Ho il crocefisso Posso utilizzarlo contro di lui Eh 76 Ok Equipaggiamocelo E adesso Sick Sick Vediamo Vai così Prendo tutto E ora è il momento Non lo utilizzo Subito il crocefisso Voglio aspettare Fino ad arrivare All'ultima porta Poi mi giro Lo uso A meno A meno che lo perdo Quello potrebbe essere Un problema Dai fino a qua Sono molto fortunato E vabbè Dai forza Ok ci siamo Siamo qua Appena arrivo L'utilizzo Pronto 3 2 1 Sì Dettatelo E anche questa Addios Che succede qua Vado Dettatelo Sick E' rimasto là Ho paura che possa succedere qualcosa Non la spengo Però intanto ti do un po' di deneri Dato che io Guarda non me ne faccio niente Questa è la mia paga per te Per il panino alla porchetta Grandissimo Ok Ok Mo so cavoli Devo arrivare Alla porta 100 Non sprechiamo la batteria L'ultima porta 89 90 10 porte C'è ice 91 Che dolore Uuh Era Lascio Ah 98 99 L'ultima porta 100 Ok c'è il crucifisso Oh no Figure Ok Utilizzo Utilizzo Non me lo fa utilizzare Ragazzi Non me lo fa utilizzare L'ho utilizzato L'ho utilizzato Sì Sì via Non è via Lo sono stunnato Non perderò Non perderò Grazie.